Ciao ragazzi, benvenuti in questo vlog, io sono un soggio e ragazzi siamo qui nella stream Ciao ragazzi, oggi ragazzi siamo qua per fare una sfida contro questi due qua E che sfida faremo? Allora, qui, da come vedete c'è una corda, però fin dove arriva questa corda? Parte da qui e arriva fino in su, ok? Ragazzi abbiamo due sfide da fare Allora, la primissima, che sarà quella più facile, sarà che noi ci dobbiamo arrampicare sia con le gambe che con le mani Quindi cioè, con tutto il corpo va usato Poi, la seconda prova, che è quella più difficile, ci dovremmo arrampicare solamente con le mani, capito? Quindi, qua, cioè, vedremo chi sarà il più forte Perciò, ragazzi, iniziamo Ragazzi, sblito è il primo Vai, fraccello, fammi vedere Mi devo sedere? Sì, sì, tu devi partire da seduto No, forse Oh, alto Siediti, siediti Non ce la fa nessuno Ok Allora, il trucco è, incastrai subito i piedi qua Sul primo nodo È un po' difficile Ok E' una volta incastrati Vedi che poi da lì parti Farà, ma già la fai? Oh, ma già la fai? Meno male che era quella più facile Ok Stai un po' barando Però dove? Brucia Guarda No, no È brucia, sì, eh Porca di quella putt... Vado Attento che fa male le mani Prima ti ho detto che tu devi incastrare i piedi Cosa che non ci sto riusciendo Ecco Sì Ok E adesso vai un pochettino con i nodi Oh, già Dove andrà troppo Ma sto salendo Guardalo Ma dove va? Guarda, John Sto fatto che la rinchiera Ok Oh No, sei riuscito a scavalcare No, no, no Basta così Mamma mia Ma do le mani Fa vedere le tue mani? Ma di me sono diventato rosso le due No Paga la massa Paga la massa Ok, regà Da come avete visto Io ci sono riuscito Oh, una cosa Quando hai visto questo bordicino qua E dondoli C'è la mano che tocca Le nocchie toccano Quindi Bisogna stare un pochettino attenti Però, regà Adesso noi dobbiamo Farlo provare da Antonio Dai, Antoine Facci vedere Vai, Antoine Ci siamo, ci siamo Dai Oh, guarda qua Quanto è furbo I guanti I guanti No, vabbè Oh, poi una cosa Svito Io e te abbiamo le ciabatte Lui no Dai, Antoine Peso 70 kg Nudo Porche Dai, Antoine Facci vedere C'è tanti kg in nudo Ho tanti kg Oh, i guanti sembrano I guanti mi vengono via Dai Antoine Antoine Oh, sto guante qui Ma anche te Lo prendi Cioè, con l'altra mano Non lo so No, no, no Vai, vai Antoine 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 Dai, Antoine Ok, bravo, bravo Ce l'hai, ce l'hai Bra Oh, guarda che appena tocchi il solo Perdi, eh Dai, no, lascialo fare Ho vinto, lascialo fare Dai, Antoine Dai, no, lascia a prendere Sono più allenato Dai, Antoine Dai, Antoine Dai, 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 Antoine Oh, Antoine Facciamo così Se riesci ad arrivare lì Ti offro una serata al cinema Oh Dove è arrivato Oh Serata di scrocco, Antoine Dai Ce la fai, ce la fai Sì, ma scivola Ok Antoine, niente Riprova, riprova Dai, allora, alza Ti su, veloci, subito Dai, Antoine Vai, Antoine Ce la fai, ce la fai È tuo È tuo, non mollare Ma è un bagaglio di me Ragazzi, a quanto pare Antonio, niente Non è riuscito a farla Mi dispiace Adesso, ragazzi Noi passiamo all'ultima prova Che sarà quella più difficile Dove consiste Farlo solamente con le braccia Inizio io Inizio tu Eh, però ci saranno per farci i guanti Stavolta Partirà sblito Poi ci sono io E l'ultimo è Io ti lascio da dietro con le braccia Ok Guardate, sblito, ragazzi Si sta concentrando Ti ho sottovalutato No, no, nessuno Ti ha sottovalutato Guardate, guardando il video Ancora non avete messo il like Mettete il like Ragazzi, mettete il like Assolutamente Adesso arrivo fino a sotto Dai Tocca la ringhiera, eh Oh, solo con le braccia Oh Oh Oh, sblito Non va bene Non va bene, rica Non va bene Mi avete tutto meritato Su, pinzu, pinzu Ce la fai Dai, che c'è C'è, vabbè Uno scalatore abbiamo qua Un climber Oh Andiamo sulle montagne Dai, dai, che ce l'ha Andiamo sulle Doloniti Andiamo a scalare l'Everest Oh È già buono, è già buono No, vabbè Oh, dammi il punto Top qua Adesso, raga Tocca a me Qua intanto È arrivato pure Tech Allora, vedi che stiamo provando Cioè, abbiamo le sfide tra di noi Ci dobbiamo arrabbicare sulla corda Anche te lo vuoi fare? Sulla corda dove? Vai, vai, vai Tac, tac, tac Vai, vai, lo faccio, lo faccio Da seduto? Ma che da seduto? Eh, si parte da seduto Oh, oh Però con i guanti c'è un bel grip Bellissimo, bellissimo Voglio vedere dove arrivi Basta, vai Sei pronto? Vai, non mi sta Sì Non mollare, non mollare Vai, ti sei arrivato Ancora Inizione Voglio andare ancora qui in su L'unico a far me C'era io Basta Faccio la nostra figura Ok Ok Oh, faccio io adesso Vai, vai pure, vai pure Vai pure Adesso, raga C'è pure Tech Allora Che i gamer non sono agili Allora, quale vuoi fare per primo? Quella con i piedi o direttamente questa? Direttamente quella Hai capito? Via, dai Non mollare Non mollare Non mollare Dai Pizzo Prova di riparare la ringhiera Dai 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 Ce l'ha, ce l'ha Oh No Buttati, buttati No, va bene Top 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 regà Ma che ho Allora ragazzi L'ultimo ovviamente è Antonio Antoine Antoine No, 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 no Ma che Scrivete nei commenti se ci sta Antoine o Tony Uno di due E' il disegnante super nome Tony Hashtag Tony Dai Qua bisogna usare il dorso Porca Porca Ma io c'ho paura Ma io c'ho paura Ma io c'ho paura Non c'ho paura Ma io c'ho paura Ma come avete fatto Dai Oh mio Il nuovo quadro Ecco la tua musica Scrivete qua Il nuovo quadro L'urlo di Antoine Oh E poi Hai visto pure le gambe Com'è che faceva con le gambe Facciamo così Ma nel sarà Per me Facciamo un po' di l'altra machine Un po' di l'altra machine Oh fermo è che è tutto rotto Sì vabbè adesso cosa ci deve rifare Cos'è sono 3 kg No Antoine Non mi interessa Sta roba c'è Sta roba c'è Non c'è Se la cancelli non c'è No ma ci sarà Non la voglio Non la voglio io No Era così Vada Via 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 No ragazzi Mi è arrivata in fin di questo vlog Taglia tutto Taglia tutto Se vi è amici Da lasciatevi un like Un commento magari Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Hashtag L'urlo di Antoine E noi ragazzi Ci vediamo al prossimo vlog Dalla raga